Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui presso la sede dell'Istituto dell'Encyclopedia Italiana. Sono molto contento che presentiamo la rivista Quaderni d'Arte Italiana, che è un trimestrale d'arte contemporanea che nasce da una sinergia di cui in Treccani siamo particolarmente orgogliosi tra la Quadriennale e Treccani. Ringrazio di questo un amico di Treccani come Umberto Croppi, che è presidente della Fondazione Quadriennale, il direttore e nonché direttore artistico Gian Maria Tosatti e due esponenti del Comitato Editoriale che presenteranno la rivista che sono Francesca Guerisoli e Andrea Viliani. Devo dire che la prima volta che Gian Maria Tosatti ci ha parlato e ci ha presentato di questa rivista ho apprezzato molto il suo coraggio perché voleva appunto definire una pubblicazione dedicata al sistema dell'arte non solo a livello internazionale ma anche con quella serietà editoriale che nel ventunesimo secolo mi lasciava qualche perplessità che potesse essere accolta non solo da un pubblico ma anche da chi lavora nel mondo dell'arte con quella giusta attenzione che avrebbe meritato quella che era una sua idea. Quando qualche giorno fa ho visto una delle prime copie ho detto che aveva perfettamente ragione mi piace dirglielo, è una bellissima rivista, mostra appunto come ancora oggi si possa credere nel valore dei contenuti e nel valore che può avere l'arte contemporanea, lo dico da un punto di vista Treccani, come linguaggio della contemporaneità. I quaderni hanno una forma che evocano proprio un quaderno come un insieme di fogli che raccolgono appunti, pensieri, annotazioni e ogni numero si articolerà in 14 contributi in una doppia lingua italiano ed inglese anche con questa intuizione secondo me intelligente di affidare a curatori, a storici dell'arte, a esperti di discipline per fare in modo che ancora una volta centrale sia il contenuto. Credo che aver avvicinato la quadernale a Treccani sia anche un modo per riconoscere il valore delle istituzioni culturali devo dire che il lavoro che sta facendo Umberto Croppi insieme a tutte le persone di quadernale che ringrazio insieme, permettetemi di ringraziare anche le persone di Treccani che lavorano nel progetto Treccani Arte credo che sia in questo momento nel nostro Paese un segnale importante, un segnale che mette al centro la cultura e il suo valore, la capacità di credere che al di là delle forse eccessive e inutili discussioni sul valore dei beni culturali c'è un valore come dire di tutela che la nostra Costituzione ci richiama sempre della cultura che emerge nel lavoro che la quadriennale e il suo direttore artistico vogliono fare e Treccani è ben lieta di accompagnarli in questa sfida perché di una sfida si tratta e quindi devo ringraziare davvero tutto lo staff di quadriennale per aver voluto affiancare al lavoro di Triennale il lavoro di Treccani, siamo contenti che si presenti qui nella nostra sede speriamo che questo lavoro comune dia molti frutti e niente, darei la parola a Umberto Croppi e ringrazierei davvero ancora una volta di questa scelta che per noi ci onora e in qualche modo ci aiuta anche a traghettare Treccani verso alcuni temi della contemporaneità su cui siamo molto impegnati grazie io dirò pochissime cose e i ringraziamenti reciproci che sono diciamo fanno parte del cerimoniale ci sono delle occasioni in cui invece hanno un valore molto più profondo e onnicomprensivo perché lo diceva bene il direttore Brai noi celebriamo un tipo di attività che non è sufficientemente diffusa nel nostro paese cioè quella di mettere in sinergia, uso questa brutta parola che ormai è in valza istituzioni pubbliche che hanno dei mandati precisi ma anche appunto tendenzialmente sinergici fra loro spesso c'è indifferenza, competizione nel nostro caso sarebbe persa in partenza rispetto alla importanza della Treccani invece quando si incontrano sensibilità che hanno a cuore il compito che gli è stato assegnato che ci è stato assegnato e il senso di responsabilità per la cosa pubblica possono succedere anche queste cose e i risultati si vedono e sono convinto si vedranno in maniera con una crescita esponenziale nel tempo a questa avventura c'è un terzo partecipante istituzionale che devo citare purtroppo mi ha comunicato poco fa che voleva essere presente ma non c'è Paolo Vicchiarello che è il coordinatore della unità di missione della Presidenza del Consiglio perché anche questa iniziativa editoriale che è destinata a durare oltre la scadenza dell'iniziativa è realizzata anche grazie al sostegno appunto dell'unità di missione per le ricorrenze che è legata però al Ministero delle Politiche Giovanili, alla Ministra Dadone quindi a loro va anche un ringraziamento fortissimo per aver capito che il mandato che loro hanno può essere vitalizzato soprattutto la parte che riguarda i giovani utilizzando gli strumenti, i linguaggi della contemporaneità quindi dicevo è una cosa di cui siamo felicissimi la mia gratitudine nei confronti di Massimo Brai e della istituzione che lui rappresenta è veramente importante la rivista ha un precedente che è il catalogo dell'ultima edizione della Triccani anche questo per qualità, per impegno e per autorevolezza rappresentava già un traguardo però non si fermerà qua noi abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa in Italia i protocolli finiscono in fondo ai cassetti invece noi abbiamo voluto far partire il protocollo insieme a una realizzazione e su questa strada andremo avanti e questa parte editoriale è all'interno di un programma triennale quello che ha elaborato il direttore Tosatti che comprende una serie di altre cose che sembravano impossibili perché e qua debbo dire il lavoro svolto dal piccolo ma guerrito staff della quadriennale e per questa parte non solo insieme ai collaboratori dell'istituto Triccani è un lavoro veramente full immersion che comporta una dose di passione e di attaccamento che va ben al di là degli impegni contrattuali e la mole di attività messa in campo da Gian Maria che pure era fortemente impegnato sul versante veneziano fino al mese scorso comporta delle attività addirittura di natura quotidiana cosa che ha rimesso la quadriennale nel solco storico per cui era stata immaginata cioè uno strumento di promozione dell'arte contemporanea coprendo una serie di vuoti questa rivista copre un vuoto assoluto non c'era in Italia in questo momento della nostra storia uno strumento di indagine su quello che sta succedendo e per questo è bilingue giorni fa è stato presentato uno studio finanziato dalle generali sulla conoscenza dell'arte italiana contemporanea all'estero che da come sappiamo ma là viene provato con i numeri dei risultati veramente deprimenti di fronte invece a una scena che è fortemente attiva quindi la rivista è anche uno degli strumenti di promozione all'estero di promozione di conoscenza abbiamo questa attività quotidiana di studio visit che alla fine del percorso ci consentirà di avere un repertorio di quasi mille artisti abbiamo le attività divulgative affidate a Ludovico Pradesi che qua abbiamo in programma tutta una serie di cose alcune importanti partiranno da settembre ma non ve le anticipo qua io avevo promesso che avrei parlato poco ho già detto troppo in ordine di tempo forse di informazioni potrei andare avanti quindi chiedo ringraziandoli a Gian Maria e ai due membri del comitato autorevolissimi membri del comitato di redazione nell'ordine che preferiscono di entrare nel merito per cui siamo qua stasera ringrazio il mio presidente ringrazio Massimo Brai direttore generale qui in Treccani felicissimo che appunto il nostro primo incontro che è stato un incontro vero e proprio un vero confronto ha portato appunto poi alla realizzazione di un prodotto di cui anche i nostri editori sono soddisfatti io sono molto soddisfatto di questo prodotto perché con questo prodotto scriviamo la storia scriviamo la storia dell'arte può sembrare un'espressione iperbolica in realtà è molto concreta e vi spiego perché alcuni mesi fa scrivevo un editoriale sul Corriere della Sera e iniziavo parlando del film di Walt Disney Luca che voi tutti probabilmente avrete visto un film molto bello lo notavo dicevo che sarebbe un film da far vedere davvero a tutti i bambini oppure a qualche adulto sicuramente però da capo ci troviamo di fronte a un'Italia degli anni 50 degli anni 60 un'Italia che è rimasta fortemente impressa nell'immaginario internazionale dopodiché fuori da questo paese sembra che l'Italia sia scomparsa e nell'editoriale dicevo che è successo? perché non abbiamo saputo raccontarci? perché non come dire fuori da questo paese nessuno sa chi sono gli italiani oggi che cos'è l'Italia oggi l'idea di questa rivista mi è venuta parlando con Mary Jane Jacob che è una curatrice molto importante è stata veramente uno dei curatori mitologici negli anni 90 soprattutto quei punti di raccordo tra un mondo dell'arte del ventesimo secolo e un mondo dell'arte che diventava quello del ventunesimo secolo e parlando con lei mi diceva ma sai Gian Maria io però oltre la versione di Germano Celant faccio fatica a leggere l'arte italiana e così mi sono detto beh allora c'è un problema e questo problema tra l'altro ce l'ha ben illustrato quello studio fatto recentemente appunto da alcuni studiosi tra cui una persona che sta collaborando con noi Marilena Pirrelli sta collaborando con noi anche con una certa continuità perché lo ricordo la rivista è una rivista che cerca di affrontare il fenomeno dell'arte contemporanea nella sua completezza quindi non soltanto sui temi critici ma anche sui temi di carattere economico socio-politico perché l'arte non si sostiene da sola chiaramente era dietro tutta una serie di processi che devono essere studiati per essere anche migliorati e quindi mi sono detto beh è necessario che ci mettiamo a riscrivere la storia dell'arte anzi a scrivere la storia dell'arte del ventunesimo secolo perché fino ad oggi tutto questo non è stato fatto l'editoria dell'arte del ventunesimo secolo ha prodotto un numero importante di monografie le monografie sono la definizione di stelle fisse nello spazio puntuali monadiche un cielo fatto di stelle sconnesse è un cielo che non ci aiuta a navigare è un cielo illegibile allora abbiamo bisogno di creare la cosmologia per poter interpretare il cielo per poter navigare per poterci muovere per poter disegnare delle traiettorie che da un certo punto di vista poi diventano i vettori di una storia della storia di una civiltà per cui abbiamo pensato che al di là diciamo di un'attività innegabilmente importante di scrittura di monografie fosse arrivato il momento di cucire tutto questo in una storia perché sono convinto che tutto ciò che non sei capace di raccontare forse non lo hai neanche capito molto bene allora abbiamo creduto e crediamo ancora che per appassionarsi all'arte contemporanea sia necessario capirla e per capirla giustamente bisogna che noi ci accompagniamo e ti facciamo fare un viaggio d'altra parte è inutile che ci giriamo intorno voglio dire le pagine di storia dell'arte che amiamo di più sono quelle che hanno saputo scrivere una loro storia quindi diciamo quando dico stiamo scrivendo la storia non è in senso appunto metaforico è in senso molto pratico cioè stiamo cercando con questa rivista di connettere tante parti tanti elementi che rappresentano quella che io ritengo una delle generazioni più fortunate e più interessanti che la nostra arte italiana abbia conosciuto almeno dal dopoguerra in poi e che però appunto stava soffrendo di uno scollamento non solo interno ma anche esterno perché ripeto voglio dire laddove una cosa non è raccontabile non è nemmeno così tanto condivisibile il racconto è alla base diciamo delle culture il racconto significa poter avere la capacità anche di espandere una cultura quindi creare questo racconto è l'obiettivo primario di questa rivista ovviamente è un racconto problematizzato è un racconto critico è un racconto che non non è un racconto di promozione noi non non siamo solo ecco diciamo la quadrennale ha due grandi colonne no? ricerca e promozione ma le due cose vanno per forza insieme nel senso che noi non non dobbiamo vendere delle cose promuovere non significa vendere promuovere significa essere consapevoli del valore di una determinata cultura e poi poterla raccontare per esserne veramente consapevoli bisogna innanzitutto indagarla allora in questa rivista ci sono questi strumenti ci sono diversi testi i testi di filosofi che cercano di creare delle cornici di pensiero attorno ai fenomeni ci sono vado vado in ordine a come appaiono c'è una per esempio ecco parliamo di questo primo numero per esempio noi ragioniamo su questa su questa logica partendo dal primo numero abbiamo un un il primo numero ha come tema l'Italia tra l'altro stiamo già stampando il secondo numero che ha come tema il concetto di popolare il terzo numero ve lo anticipo ha come tema quello che ho appena introdotto cioè che cosa significa scrivere la storia perché poi se vogliamo fare una cosa dobbiamo anche problematizzare cerchiamo come dire una strada e un metodo per poterlo fare quindi ci interroghiamo attraverso la rivista su questo comunque il primo numero parla dell'Italia mi sembrava corretto tra l'altro è stato Andrea Viliani diciamo un grande sostenitore di questo tema durante la prima riunione di redazione si apre con un articolo che parla sul parla affronta il concetto di identità italiana in questo momento della storia da parte di Nicolás Martino che è un bravissimo filosofo contemporaneo che si occupa di arte contemporanea segue un articolo di Lara De Mori che fa un dialogo con Carlos Basualdo capo curatore del Philadelphia Museum of Art che è il secondo più grande museo degli Stati Uniti grande conoscitore di arte italiana che appunto ci dice più o meno alcune delle cose che dicevo io prima cioè abbiamo un problema nel senso all'estero è molto difficile comunicare l'arte italiana dopo l'arte povera c'è poi un articolo di Lucrezia Longobardi che fa una cucitura diciamo di che cosa è successo nel primo ventennio della storia dell'arte italiana è una prima ipotetica lettura una prima possibile lettura che unisce i punti che ho detto io sì sì prima del ventennio di questo secolo del nuovo secolo segue poi in maniera quasi coordinata diciamo un articolo di Elisa Carollo sul terzo decennio di questo secolo quindi sugli anni venti allora se è vero che i primi vent'anni hanno avuto una certa coerenza una forte coerenza questo mi va di dirlo perché in generale ecco è proprio questo che è mancato cercare di leggere il fenomeno nella sua coerenza gli anni dieci e gli anni zero hanno avuto non solo una grande coerenza tra loro ma anche molti elementi di consecutività piuttosto interessanti poi il terzo decennio si apre con questioni anche generazionalmente diverse per esempio mentre i primi vent'anni sono stati dominati da un ritorno dell'interesse politico verso l'arte contemporanea il terzo decennio che è diciamo vissuto principalmente da artisti che sono i cosiddetti millennials quindi persone che vivono la loro identità fisica e la loro identità digitale in un come dire rapporto quasi simbiotico noi che siamo di qualche anno più vecchi per noi il mondo digitale o come oggi si comincia a chiamare il metaverso è qualche cosa di decisamente staccato da chi ci sentiamo essere invece l'identità digitale l'identità fisica per un ragazzo che è nato appunto alla fine degli anni 2000 degli anni scusa del 900 è come dire una posizione molto più molto più mista e meticcia e quindi Carollo ci dice probabilmente il ritorno a una pittura molto più intima è la necessità di una generazione di interrogarsi su se stessi quindi non più come i precedenti proiettati verso l'universo politico sociale per dire che cos'è che cosa siamo come comunità ma un ritorno a dire che cosa siamo perché c'è stato un terremoto la rivoluzione digitale ha prodotto questo terremoto corro con gli altri articoli perché mi sto prendendo molto tempo c'è Raffaella Perna che ci parla ecco poi da questi due sguardi generali cominciamo degli approfondimenti Raffaella Perna ci parla dell'importanza del coinvolgimento della scena femminile e quindi anche femminista in questi ultimi anni come ha trasformato la percezione dell'arte aprire chiaramente porte e finestre che per molti anni sono state decisamente meno aperte Lorenzo Madaro ci parla di una scena che racconta il paesaggio racconta la strada racconta tutti quei luoghi che fanno parte decisamente di questo orizzonte politico della scena degli anni zero e degli anni dieci quindi i luoghi in cui gli artisti sono andati a ricercare il contatto con le persone un contatto vero e proprio insomma non un contatto mediato Angel Moya Garcia ci racconta anche della transmedialità che comincia a diventare un elemento importante per l'arte contemporanea voglio dire due delle colonne diciamo dell'arte del ventunesimo secolo sono l'arte ambientale e la performance tutte e due sono elementi tra virgolette che provengono probabilmente anche da altri ambiti diciamo mi immagino principalmente per esempio dal teatro vediamo che c'è dopo c'è Giabascego questo comincia un altro discorso Giabascego ci parla sempre rispetto all'Italia non soltanto a quindi che cosa è stata l'arte italiana ma chi sono gli artisti italiani per esempio con una bella conversazione con Francis Hoffman un artista nato in Rwanda sfuggito a 12 anni al genocidio del Rwanda che adesso da 20 anni lavora in Italia gli abbiamo dedicato anche la copertina e i Giabba che è una meravigliosa scrittrice di origine somala ma probabilmente più romana di me dal punto di vista diciamo dell'amore che prova per la nostra cultura la nostra città fa con lui un ragionamento per dire che cosa è oggi un artista italiano un artista che porta avanti la nostra cultura ma lo fa anche con radici che magari vengono da lontano abbiamo un approfondimento filosofico nella seconda parte che viene portata avanti da Ilaria Bussoni e da Riccardo Venturi mentre Valentino Catricalà si dedica alle prospettive sull'arte digitale come sta venendo letta in Italia Giacinto Di Pietrantoni e Marcello Francolini fanno un ragionamento su alcune radici importanti della cultura italiana che sono quelli legati al cristianesimo che cosa succede in un'arte che è stata dal 200 in poi fortemente legata anche allo sviluppo di un pensiero simbiotico con il mondo cristiano oggi che cosa succede e su questo si interrogano questi due artisti facendo dei riferimenti anche ad opere molto famose come quella di Maurizio Cattelan per esempio che su questo hanno lavorato e poi c'è l'ultima parte che è quella un po' economica di cui avevo detto se ne occupano in questo numero Francesca Guerrisoli e Marilena Pirrelli parlando di quali sono le economie reali su cui il mondo dell'arte può contare perché come dire è sempre molto aleatorio questo discorso invece cominciamo a capire dove stanno i soldi veri non i soldi millantati i soldi veri che possono sostenere questo sistema e l'ultimo articolo è un articolo più come dire socio-economico è di Santanastro e ci racconta un po' come vive un artista italiano in questo momento della storia dell'arte chiudo dicendo soltanto che la sinergia fra Treccani e Quadriennale rappresenta una responsabilità istituzionale sull'arte italiana cioè io credo che quando si vuole cercare di migliorare di implementare la capacità di un sistema di sapersi raccontare ma anche di sapersi presentare fortemente sulla scena internazionale come l'arte italiana merita di fare questo chiaramente non può non passare per una responsabilità delle istituzioni l'Italia non è un paese che deve e può affidarsi come dire alla buona volontà dei privati nel senso i privati fanno la loro parte noi come dire lo apprezziamo ci sostengono ma è essenziale che la politica italiana e quindi le istituzioni sostengano questi obiettivi fortemente allora credo che questa sinergia rappresenti esattamente questo rappresenti il senso di responsabilità di due istituzioni a dire benissimo facciamo rete cerchiamo di fare in modo che come dicevano prima direttore e il presidente il sistema dell'arte italiana il sistema della cultura italiana smetta di lavorare in maniera come dire separata ma cominci a muoversi come un organismo questo è uno dei grandi obiettivi di quadriennale anche per cercare di essere una energia che cerchi di riportare organicità all'interno di un sistema che è vero è stato un po' come dire spezzettato in questi anni il fatto che accanto a me come redattori della rivista ci siano due direttori di musei italiani ne è la dimostrazione io credo nel senso che quando si muove la nostra rivista si sta muovendo anche un sistema che ha voglia di rimettersi in assetto grazie scusate io riprendo un secondo il microfono per un'informazione che prima avevo messo l'impianto grafico della rivista è stato affidato allo studio FM di Milano che ha anche compiuto un restyling complessivo dell'immagine della quadriennale cercando di renderla intanto più coerente e anche più aggiornata rispetto alle sensibilità del momento buonasera a tutte e a tutti sono Francesca Gorisoli appunto direttrice del museo di Lissone da poco da settembre scorso e tante altre cose direi negli anni sviluppate negli anni e quello che mi interessa molto di questo gruppo che si è formato perché forse sarebbe bello anche raccontare un po' del dietro le quinte quindi questo gruppo che è dietro questa rivista non solo la redazione ma poi anche tutti i collaboratori che poi variano anche nel corso dei numeri da un numero all'altro ecco credo che sia un'occasione questa della rivista molto interessante per metterci anche in relazione tra di noi le riunioni di redazione e le riunioni con i collaboratori sono sempre molto lunghe quindi questo può anche essere un punto a sfavore delle riunioni stesse ma in realtà sono molto significative cioè credo che varrebbe la pena registrarle e pubblicarne no come dire però lasciamo perdere c'è già abbastanza carne al fuoco cioè quello che sta emergendo è anche un confronto diretto che sta avvenendo nel corso di queste riunioni tra i singoli componenti del comitato editoriale e i collaboratori cosa utilissima perché in effetti è un connettore è un connettore che ha che ha sviluppato appunto delle relazioni che erano come dire in nuce chiaramente ci si conosceva praticamente tutti quanti però avere con una cadenza precisa ogni mese degli incontri fa sì che ci sia anche proprio un confronto tra di noi quindi diventa davvero quasi un tavolo di lavoro con grande partecipazione da parte di tutte e tutti quindi io credo che questo sia un aspetto non trascurabile perché la rivista sta facendo un lavoro sì di ricerca e promozione rispetto a quello che è la produzione e la promozione dell'arte italiana ma anche un lavoro direi facendo un passo indietro proprio mettendo insieme noi stessi che siamo parte di questa rivista che la facciamo insieme grazie a Gian Maria che ci ha coinvolte quindi questo è un punto che credo sia utile ricordare un altro punto è che ogni volta che ci troviamo a scrivere un articolo saggio non lo so ecco la definizione è anomala io poi cerco sempre le definizioni e mi piace anche sabotarle quindi le cerco per sabotarle allora qui definirgli articoli o definire i saggi credo che non valga nessuna delle due come definizione è qualcosa di ibrido è qualcosa di ibrido perché la lunghezza non è quella di un articolo classico giornalistico ma il saggio accademico è un'altra cosa e allora che cosa sono questi testi credo siano dei testi che innanzitutto ci chiedono di approfondire dei singoli temi delle singole questioni e ogni volta che ci almeno che mi approccio ma credo chiunque di noi scriva su questa rivista ad un nuovo tema diventa una ricerca va bene non accademica ma è comunque una ricerca non è semplicemente un articolo che mette insieme dei dati dei fatti e cerca di descriverli ecco non è solo questo non è solo descrittivo superficialmente e quindi ci obbliga in qualche modo ad assumere uno sguardo critico uno sguardo puntuale preciso e a fare i conti appunto con quella che è la realtà attuale non è facile in 10.000 siamo arrivati a 10.000 battute concentrare un'idea uno sviluppo di un'idea o meglio non è per nulla facile molto più facile farlo in 30.000 o in 50.000 per quanto mi riguarda forse perché sono anche un po' prolissa non lo so però ecco arrivare a sintetizzare a condensare quindi lo sviluppo di un'idea critica non è cosa semplice io credo che insomma se leggerete i saggi che sono stati scritti per questo primo numero troverete interessante vedere come appunto c'è da un certo punto di vista un certo approfondimento e dall'altro però con grande cioè vivacità con grande sì direi proprio vivacità cioè non vi annoiate per questo credo sia una rivista che può interessare davvero un pubblico non solo il pubblico dell'arte ma anche un pubblico generico un pubblico non specializzato uno dei miei come dire cavalli di battaglia che ho da quando ero giovane ventenne in formazione è sempre stato quello di cercare di portare l'arte a tutti e a tutte altrimenti se la dobbiamo portare solo ai collezionisti non lo so preferirei fare altro e lo dico da direttrice di museo dove appunto nel programma del museo che dirigo appunto da settembre il MAC di Lissone il museo d'arte contemporanea di Lissone è proprio un punto per me estremamente importante cioè cercare di rompere quella barriera di autoreferenzialità che molti pensano sia proprio tipica dell'arte contemporanea poi quando però la frequentano ecco che questo pregiudizio entra in discussione viene messo in discussione quindi la rivista credo che abbia anche questo come obiettivo cioè proprio quello di sfondare questa percezione di autoreferenzialità dell'arte contemporanea che purtroppo è ancora molto presente è molto presente poi potremmo indagare i ruoli soprattutto i ruoli istituzionali della scuola la scuola pubblica e privata il fatto che il contemporaneo non venga di fatto affrontato se no in rarissimi casi a discrezione di un docente illuminato o illuminata e quindi ecco che ci troviamo sul contemporaneo anni luce indietro rispetto ad altri paesi purtroppo e quindi ancora di più una rivista una rivista come questa e le istituzioni hanno credo il compito il dovere di cercare di promuovere l'arte gli artisti il sistema dell'arte italiana prima di tutto all'interno dell'Italia e certamente come ci dice la ricerca del sole 24 ore capitanata da Marina Pirrelli che è caporedattrice di Art Economy 24 la pagina per cui ho scritto finché non sono diventata direttrice dopodiché non ho più avuto tempo di scrivere ovviamente però ecco il grande problema della visibilità degli artisti italiani all'estero è un problema strutturale dell'Italia e riprendo quello che è stato detto precedentemente cioè il fatto che è necessario fare rete noi chiudiamo proprio il nostro pezzo dicendo questo cioè qual è il modo per uscire da questa invisibilità cioè ci sono tante energie tante ricerche in Italia c'è una ricerca artistica avanzata dal punto di vista della forma del concetto insomma non ha nulla da invidiare rispetto ad artisti che sono molto in boga negli altri paesi che hanno raggiunto diciamo un livello internazionale di rilievo allora ecco probabilmente il problema è proprio questo che le strutture pubbliche le strutture private ci sono ma c'è la necessità di come dire legarle insieme di fare un lavoro sinergico per cui appunto ecco come avviene in altri paesi quindi questo il tema dell'economia che sostiene l'arte credo sia un tema trasversale ad ogni numero cioè questo sia un numero una rivista di critica d'arte ma per parlare di critica così come per parlare di storia dell'arte dobbiamo a mio parere andare allo scheletro delle cose cioè che cosa permette agli artisti di sostenersi di poter produrre di poter andare all'estero di poter di poter essere artisti di rilievo a livello internazionale per cui credo che appunto finora ogni numero ha avuto un articolo un pezzo come vogliamo chiamarlo un saggio di taglio economico ecco ci potrebbe essere chi chi solleva una critica a questo cioè ma perché una rivista di critica propone anche saggi di taglio economico ecco la mia risposta è che senza l'analisi dello scheletro non possiamo analizzare il corpo che poi vediamo per cui credo che dovremmo sempre avere un pezzo con questo taglio che altro l'altra questione secondo me importante che non è fisicamente qui ma che c'è online è il progetto panorama il progetto panorama di cui si è accennato cioè la ricognizione sul territorio di quelli che sono di quella che è la produzione artistica quindi facendo studio visit dedicati con poi un report una relazione di ogni studio visit questo è un altro un altro lavoro devo dire che io arrivo sempre un po' a fatica a consegnare i pezzi perché si sommano i vari i vari lavori che però non lascerò mai perché è un lavoro prima di tutto che serve a me di nuovo quindi di nuovo anche solo parlando egoisticamente è un lavoro che serve a noi prima di tutto a noi e ovviamente il tema è presentare quella che è la ricerca artistica italiana contemporanea con un taglio critico e poter avere quindi uno strumento anche utile da cui attingere quindi io mi immagino anche curatori più o meno giovani che possano usare questo strumento questo box da cui appunto attingere per la produzione di mostre per esempio è solo un esempio però credo sia molto utile quindi ecco anche questo strumento è molto utile utilissimo e ci consente di fare nel mio caso specifico parlo del mio caso anche un'indagine proprio sul territorio quindi un'indagine capillare quali sono le energie che si stanno muovendo sul territorio presentiamole vediamo come che cosa hanno di buono da raccontarci e quali sono però anche i limiti perché ovviamente stiamo facendo critica quindi Gian Maria ci bacchetta sempre se non siamo abbastanza critici ecco credo che non ho lascerei la parola ad Andrea perché altrimenti io poi mi dilungo e avrei ancora altre cose da dire ma forse è meglio poi eventualmente fare un altro giro quindi grazie per questa opportunità ci stai ci hai messo ci hai messo sotto devo dire però credo sia un lavoro sia questo della rivista quaderni d'arte italiana sia il progetto panorama un lavoro davvero utile indispensabile cioè se vogliamo davvero riportare l'arte italiana davvero un rilievo prima di tutto nel paese e poi internazionale è un lavoro davvero necessario per cui ho accettato di farne parte e ne sono ancora ancora per ora felice una buonasera a tutte e a tutti mi scuserete se a un certo punto leggo una pagina si fa sempre quando si presentano i libri c'è anche il momento della lettura e parto prima come dire farò una piccola introduzione parto da un'espressione che adesso ho voluto rileggere da una piccola frase che ho voluto rileggere far diventare chi guarda e quindi anche chi legge parte dell'operazione artistica si Gian Maria quando abbiamo parlato del come dire del tema del primo numero di questa rivista che è a suo modo storica storica in generale ma soprattutto storica in questo momento storica forse per le prospettive che si pone nella ricerca da condividere sull'arte italiana abbiamo detto che forse il tema da proporre sul primo numero era proprio l'Italia un'altra volta ancora un numero sull'arte italiana nella rivista sull'arte italiana il tema è l'Italia sì perché ho un po' l'impressione anzi direvo dire vi darò poi un esempio mio personale che per molti aspetti si parla di una cosa allo sfinimento senza in realtà parlarne mai veramente si gira intorno e ci si crea come dire una specie di illusione di aver approfondito l'argomento e sull'Italia ho l'impressione che questo stia accadendo da troppo tempo forse perché siamo anche molto abili con la parola con il teatro con la messa in scena senza veramente mai dire nulla che smuova diciamo così questo effetto fatta morgana diciamo così come sapete dirigo da qualche mese un museo che si chiama Museo delle Civiltà che è il Museo Nazionale di Antropologia e all'interno di questo museo riceviamo molte richieste di poter visionare quello che era fino a direi più di cinque decenni fa un museo aperto il museo coloniale italiano e oggi non sappiamo nemmeno come chiamarlo esattamente io ho messo in crisi il nome che ho trovato e non credo che si debba nemmeno chiamare museo non so esattamente quando aprirà non so come aprirà ma so che come ho dichiarato recentemente nei saloni del nostro ministero non vorrei essere quello che apre il nuovo museo coloniale l'ex museo coloniale che viene aperto come il nuovo museo coloniale e parlando con tutta una serie di persone di intellettuali di artisti molti afrodiscendenti non tutti hanno l'intenzione di parlarmi non tutti hanno l'intenzione di come dire venire in un luogo che è stato definito non citerò ovviamente l'autore di questa espressione ma citerò l'espressione un luogo di violenza percepibile e quindi percepita allora se come dire esiste un museo dove alcuni di noi alcuni di noi vedono la bellezza l'importanza di un documento storico ci sono persone che ne vedono la terribilità la come dire impossibilità proprio psicologica forse direbbe Validrad va al di là anche dell'aspetto psicologico di guardarla di ascoltarla e quindi di dare autorità istituzionale a quella cosa lì allora al centro ha fatto molto bene Gian Maria di contraddire parte del suo gruppo editoriale che lo voleva all'inizio lui ha messo al centro del primo numero dei quaderni c'è un testo che è scritto da Ijabascego che saluto e ringrazio è stata anche parte delle riflessioni sunnominate che intervista in realtà è una bellissima intervista perché non c'è un'intervista è un testo di Ijabascego che è a suo modo un'intervista Ijabascego è una scrittrice ad un artista visivo che appena nominato è sulla copertina del primo quaderno che è Francis Hoffman allora alcune di queste persone non solo loro che io frequento da qualche tempo più assiduamente perché per certi aspetti che ci sta a fare un contemporaneista al museo delle civiltà forse la stessa cosa che hanno detto quando è stato nominato Gian Maria alla quadriennale ci fa un artista alla quadriennale ce lo stanno dicendo diciamo così non lo so probabilmente quell'effetto fatta Morgana non so come dire quella voglia di smuovere una situazione rende anche utile che a volte ci sia la persona sbagliata a fare una cosa perché lo fa senz'altro almeno in un altro modo allora parlando con molti dubbi senza l'autorità di chi deve dirigerlo quel museo ma che probabilmente infatti lo farà per il tempo necessario diciamo così a provare a far capire che ci sono dei miraggi ho chiesto a molte persone di aiutarmi alcune di queste persone sono queste due di queste persone sono queste due persone e in modo particolare parlando con Franzi e con altre persone mi hanno invitato a riflettere su una cosa e poi passo alla lettura se noi parliamo per esempio di ex museo coloniale ci viene naturale pensare quella cosa che diciamo sempre le stesse cose ci viene naturale pensare che quel museo parla di una storia passata parla di quando in questo paese c'erano le persone e quindi le idee che hanno costruito quei palazzi tra cui quelli dell'Euro dove c'è il museo delle civiltà cioè ci viene naturale dicendo ex museo coloniale il fascismo benissimo ma che cosa vuol dire che questo museo non è aperto da decenni cioè non sarà che questo museo non aperto da decenni ci parla anche del modo in cui abbiamo rimosso il problema per decenni non riguarda anche la nostra responsabilità nell'aver eliminato il problema nell'aver messo il problema sotto il tappeto nel parlare d'Italia senza parlare d'Italia da tutti i punti di vista e come dire mettendo nel discorso non le solite parole definizioni d'Italia ma cercando di guardare all'Italia nella sua irriducibile complessità che comporta anche il fatto di affrontare alcuni aspetti come per esempio quello di un ex museo coloniale chiuso da decenni e che adesso tentativamente dovrebbe provare a riaprire come? Beh probabilmente forse rileggendo testi come La terza patria conversazione a specchio con Francis Hoffman di Jabba Shago ve ne vorrei leggere due pezzi posso? certo la lettura è noiosa cercherò di essere meno noiosa siamo due artisti io i Jabba Shago scrivo testi letterari di diversa forma e origine Francis Hoffman è un artista visuale che usa per le sue opere materiali recuperati o donati ci portiamo entrambi due paesi sulle spalle due continenti siamo Europa ma siamo anche se in modo diverso Africa Francis è nato in Ruanda io invece sono nata a Roma da genitori somali scappati dalla dittatura di Sedbar ma quando cominciamo a parlare non iniziamo la conversazione dal Ruanda o dalla Somalia cominciamo dalla nostra arte la terza patria il mestiere tanto voluto il cammino che abbiamo intrapreso la voce di Francis si colora di entusiasmo quando parla del caffè che usa nelle sue opere mischiandolo alla colla e all'acqua adesso parleremo un po' di caffè e un po' di lingua italiana abbiate pazienza caffè che fa da controcanto al gesso e alla tradizione europea che in parte lo ha formato il caffè legato a doppio nodo a Ruanda lo ha portato la madre dopo un ritorno tanto atteso nel paese natale il fatto di consumare un caffè prodotto nella propria terra ha colto di sorpresa Francis prima del genocidio il caffè ruandese mi spiega non era una bevanda popolare viveva veniva scusate esportato e quasi mai consumato in loco c'era più l'influenza francese del tè con il latte il Ruanda prima degli anni 90 del ventesimo secolo non era un paese da caffè ma poi dopo il genocidio ne è diventato un grande consumatore questa novità che la madre quasi casualmente aveva riportato dal viaggio nelle sue valigie ha spinto Francis non solo a bere con gusto il caffè prodotto dalla sua terra ma pensare al caffè anche come possibile materiale da utilizzare nelle sue opere in cui ha sviluppato una vera e propria ossessione per la bevanda ha cominciato a studiare anche dal punto di vista chimico i fondi di caffè e a raccoglierli in modo certosino venendo in contatto con molte persone molte vite la capacità di assorbire l'acqua del caffè in fondo era anche la capacità di assorbire pensieri vita e venti e in più lo avvicinava concettualmente a Ruanda e a tutta una serie di tematiche legate al continente dallo sfruttamento del pianeta all'idea di riciclo mentre parla con il suo tono pacato e preciso nella mia testa si affollano pensieri tutti diversi primo fra tutti l'importanza nel lavoro di artista della materia prima che si usa per dare forma alla propria arte una materia fatta di concretezza tattile addirittura di mani sporche la mia materia di lavoro certo è meno palpabile del caffè di Francis Hoffman io uso le parole la lingua italiana ma sento tra le mani la stessa concretezza che lui prova quando maneggia il suo strumento di lavoro scrivo in una lingua che non è quella dei miei genitori non è né il somalo materno né il bravano paterno ma la lingua di chi ha colonizzato la Somalia una lingua europea che ha imposto il suo alfabeto il suo ritmo le sue parole d'ordine ad un popolo lontano un popolo dell'equatore che è stato costretto a piegare il capo e suo malgrato a sottomettersi l'italiano che uso pur essendo la bella lingua di Dante Lighieri di Giacomo Leopardi di Elsa Morante Natalia Ginzburg si porta dietro molti elementi di tossicità ma nella mia scrittura l'italiano diventa qualcosa di diverso si spoglia dei panni del colonizzatore per indossare quelli più intimi di chi come me in questa terra ci è nato andando in fondo ci rivela un'altra bella cosa e Jabba ci parla di un'altra bella cosa io passo molto del mio tempo a capire in che struttura mettere contenuti delicati come guerra razzismo colonialismo è un lavoro non di testimonianza ma di scavo storico e artistico tuttavia ho dovuto difendere il mio lavoro da etichette che tendevano a squalificare la matrice della mia arte o peggio a inferiorizzarne le intenzioni ho lottato per essere definita artista continuavano a definirmi ed è durato per anni testimone è qualcosa che non è successo solo a me per duecento anni e con questo voglio fare un esempio concreto l'editoria che conta ha negato l'arte ai libri degli afrodiscendenti americani definendo la testimonianza e spesso negando l'autorialità alle persone nere chiedendo loro a gran voce di tirare fuori il bianco che aveva composto quell'opera si negava l'immaginazione in parte duecento anni dopo è successo anche a me e a molti altri anche su questo punto Francis Hoffman ha trovato una strategia lui non si chiama Francis Hoffman Hoffman badate bene senza l'h ha un altro nome che conosce solo lui e ovviamente il suo nucleo stretto ma le opere le firma con questo nome che definire neutro forse è un errore ma è un nome che di primo acchito ecco non ci fa pensare all'Africa le persone all'inizio non sanno nulla della sua storia si godono l'opera senza sapere niente del suo percorso in un certo senso il suo nome è già parte del suo lavoro artistico non è un nome che nasconde l'identità da confondere con un processo di sbiancamento ma è un nome che agisce sul pregiudizio del prossimo che lavora sul suo immaginario opere e nome giocano su un terreno minato e riescono con grande eleganza a far diventare chi guarda parte dell'operazione artistica allora secondo me in questo ambito avere al centro di questi quaderni sull'arte italiana qualcosa che finalmente parla dell'arte italiana dell'identità italiana con quell'alfabeto e con quella capacità di evitare i luoghi comuni di iniziare a dire quello che magari in altre culture che hanno affrontato certi argomenti tra cui la propria identità è più frequente è uno dei meriti non è il solo ho voluto fare un esempio ma è uno dei meriti del modo in cui con il comitato redazionale le lunghissime riunioni spesso impossibili da seguire se non Gian Maria dall'inizio alla fine stiamo cercando di immaginare non l'ennesimo diciamo così libro pubblicazione giornale su un tema trito e ritrito ma di farlo come forse questa nostra generazione questo nostro gruppo di lavoro intende farlo cioè mettere come dire far diventare chi guarda e quindi chi legge parte di un'operazione artistica intanto vediamo se c'è qualcuno che vuole fare delle domande poi gli onori di casa aspettano al direttore che ci ha ospitato ci sono domande interventi no allora ringraziamo anche i convenuti che sono stati così attenti e anche numerosi considerata la giornata estiva e gli altri eventi io devo solo ringraziare devo dire anche gli interventi fanno molto riflettere su quanto sia utile avere una rivista dedicata all'arte italiana è chiaro che l'impegno deve essere quello di far conoscere l'arte come la cultura italiana di cui ahimè forse facciamo davvero tutti troppo poco le istituzioni devono fare una parte importante ha detto giustamente il direttore Tosatti l'ultimo intervento mi colpisce Treccani dall'inizio lavora molto sulle parole e su come la lingua cambia l'ex mi convince pochissimo devo dire sinceramente perché quello è un museo non è un ex museo e quindi rifletterei su questo però anche su questo credo che una rivista abbia importanza abbia importanza proprio per riflettere su quella che è stata la storia di questo paese giustamente sulle pagine che non si vogliono vedere non si vogliono ricordare e quindi è un'operazione culturale a tutto tondo e bene fa la quadriennale e il suo direttore a voler richiamare l'attenzione di tutti noi su come proprio attraverso l'arte si può leggere la storia quindi ancora una volta grazie per aver affiancato Treccani e speriamo di rivederci per il secondo numero che abbiamo saputo è già in stampa grazie 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 a tutti grazie a tutti